Ciao, sono Uri di Tontube e benvenuti in un nuovo video. Oggi parliamo di questo pedale, il Nettuno. Il Nettuno. Il Nettuno è il Fuzz di casa Dofix ed è un pedale che rispecchia pienamente gli standard del laboratorio fiorentino. Abbiamo un totale di tre controlli, con l'aggiunta del tono per una maggiore versatilità. Il pedale è pensato per dare un suono alla Jack White e ha all'interno dei transistors 2M5088. A bassi livelli di Fuzz abbiamo un suono che ricorda veramente il Fuzz Phase al Germanio, un suono molto caldo ma sempre definito. Aumentando il livello di Fuzz ci avviciniamo a territori che sono quasi da distorsore e in questo ricorda veramente il David, sempre di casa Dofix. Passiamo adesso al loop e conosciamo meglio questo Nettuno. Aumentando il livello di Fuzz. 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 Aumentando il livello di Fuzz.